Ciao ragazzi, è tutto vero, non ci posso credere, Antenucci è riuscito, quello che ho detto però, quello che avevo detto, bisognava insarinare, bisognava mettere un cross, ce l'abbiamo fatta a mettere un cross buono, ora il video di prima lo lascerò, il video di prima lo lascerò, avevo detto anche che Benali giocava dal primo, così è stato, a posto di Benedetti, andate a vedere il video del pre-gara di qualche giorno fa, l'ho detto, e lo meritiamo, lo meritiamo, lo meritiamo, lo meritiamo questo pareggio, Ranieri, te ne vai, te ne vai a casa, te cagliari, diamo, cazzo, diamo, sì, l'abbiamo pareggiata, una partita importantissima, meritavamo, meritavamo, noi abbiamo giocato tutto il tempo, te ne vai a casa con l'anticalcio, Ranieri, Cagliari, a casa, a casa, a due annate, due annate con questo colletto al 90 secondi, due sena, ciao, a tutta la gara, la marcatura, come si fa a giocare a calcio così, ragazzi, Antenucci, ti amo, gran rigore, un bel pareggio, un grande Bari, una partita, ci devono aiutare anche gli astri in questo, Maiello, mitico, grandissimo, Mignani, diamo, 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 sì, sì, scidere prima, soltanto, solo questo, dico, scidere prima, scidere prima, scidere prima, iscrivetevi al canale, ragazzi, io il video di prima lo lascio, ok, prima parte, seconda parte, Benedetti va a festeggiare, bravo, Mignani, un buon pari, prendiamoci, non diamo questi tre punti all'avversario, Ranieri, te la pigli, te la pigli, perché cazzo, bell'uomo, diamo, cazzo, Antenucci, Ranieri col suo aplombo, va a salutare, ma non ti diverti a giocare così, e Macumbò, Macumbò, che te che anni, Macumbò, abbiamo messo una palla buona al centro, una palla buona abbiamo messo, ce l'abbiamo fatta a mettere sto gol, capito? Prima parte, seconda parte, iscriviti al canale e messaggio a calcio più tardi, e tutto qua, non è colpa di Macumbò, è colpa dell'allenatore tuo che ti fa giocare in quel modo, che vi fate giocare tutti dietro, è più a 95, sono più di rigore, e te ne vai a casa con un punto, e devi dire pure grazie, che devi andare a casa con zero punti, ok? Scriviti al canale, forza a Bari sempre, grande pareggio, cheers! Grazie a tutti!